usa sempre il guanciale si voleva merbecom andavamo in america niente parmigiano solo pecorino chi dice metà in metà c'ha qualcosa da nascondere non coce l'uovo meglio un'infezione che una frittata niente aglio e niente cipolla non stai a fare ragù né olio né buro né strutto c'hai da spuggare il guanciale niente peperoncino in calabria ci vai stessate non usa altre spezie al di fuori del pepe se non te sta bene vai a cena da indiano chi mette la panna dovrebbe annan galera non di mai che arbonara e vegana ne ha la stessa frase tonnarelli bucatini spaghetti rigatoni va bene tutto basta che non fai scocciare la pasta